Oltre a questo abbiamo voluto fare degli allargamenti di gamma che ci serviranno sicuramente a dare uno spunto speciale a prodotti che hanno già una buona recezione da parte del mercato. Si tratta della famiglia Loop, disegnata da Klaus Brennolt, un designer danese. Ora anche la versione Lounge, nella versione di prodotto senza braccioli, quindi una poltrona adatta ad ogni tipo di ambiente Lounge. Altrettanto Klaus, che lavora per noi dall'inizio, ha allargato la famiglia Loop con due sgabelli della versione mini Loop, uno in legno tridimensionale ed uno in plastica. Il nostro marchio Infinity vuole cercare di continuare quello che ha fatto dall'inizio, cioè cercare di avere una contaminazione da culture diverse. Vogliamo sempre cercare di dare molto spazio anche a designer sconosciuti, ai giovani, perché crediamo che siano loro i portatori del seme di novità. Ovviamente magari anche avendo qualche nome interessante che ci può dare qualche aiuto in più, qualche spunto e qualche suggerimento. Questa è la nostra filosofia. Grazie. Grazie.